Testare l'uso della fluorodopa nella diagnosi con PET-TAC e con TAC nella cura dei tumori neuroendocrini la coincidenza è aumentata negli ultimi anni e quanto prevede uno studio avviato con il progetto PONRISE coordinato dalla Respuglia, nato con l'obiettivo di stabilire se tale metodica abbia una sensibilità diagnostica superiore rispetto alla sola TAC, oggi unico metodo diagnostico utilizzato nei pazienti con tumori non solo neuroendocrini ma anche gastroenteropancreatici o polmonari. La fluorodopa è un radiofarmaco che per lo studio verrà prodotto dall'azienda Itelfarma di Ruvo di Puglia, all'avanguardia proprio nella produzione di radiofarmaci per scopi diagnostici e terapeutici. Lo studio coinvolgerà circa 100 pazienti, partirà nel primo trimestre del 2014 e si concluderà a fine anno la presentazione nella sala conferenze dell'Itelfarma. Vede gli attori protagonisti quali il mondo dell'università, il mondo dell'azienda, il mondo della medicina nucleare che si incontra con il mondo dell'oncologia, lavorare tutti quanti assieme attorno al progetto legato alla fluorodopa. Per la prima volta si produce sul territorio questo tracciante che ha un'emivita breve, ha una scadenza molto breve. Abbiamo la possibilità di studiare da un punto di vista clinico per la prima volta e realizzare lo studio clinico più grande al mondo su 80 pazienti con prima diagnosi e stadiazione di tumori neuroendocrini. Lo studio che ha suscitato anche l'interesse del Bahrain, del Kuwait e dell'Oman è stato inoltre selezionato nella docu-fiction del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca sui progetti finanziati dal PON.